lezione di prova chitarra quest'oggi con gianmarco giovannelli presidente di federalberghi imprenditore musicista ma non chitarrista poi ci facciamo dire qualcosa in più però sicuramente sarà una una lezione divertentissima e interessante soprattutto la parte che spenderemo con due chiacchiere vediamo se lui è già marco buonasera benvenuto sei pronto per la lezione di prova non vedo l'ora chitarra allora andiamo dal maestro di chitarra gianluca d'angelo fatto tardi no? maestro ricordi del nostro ospite abbiamo ancora 10 minuti ok allora ci accomodiamo facciamo due chiacchiere puoi accomodarti prego prego eccoci gianmarco ti puoi accomodare qua sul primo cajon che vedi dove c'è la F e io sono sulla E grazie visto che qua abbiamo anche la distanza giusta se vuoi puoi togliere anche la mascherina così possiamo conversare con più facilità e soprattutto gli ospiti da casa possono vedere il tuo viso il tuo sorriso perché per chi ti conosce ovviamente insomma una scuola bellissima grazie grazie qua siamo in una delle sale prove alle nostre spalle c'è la lezione di chitarra con alcuni allievi che poi ascolteremo con un po più di attenzione allora gianmarco giovannelli abbiamo detto imprenditore in prima istanza presidente federal bergi diciamo di tante realtà che si occupano soprattutto della ricezione quindi del territorio della promozione turistica e in qualche modo anche culturale perché quando si parla di turismo e si portano i turisti sul territorio oggi più che mai importante anche comunicare la cultura del luogo e tutto ciò che attiene al contesto al contesto culturale appunto tu sei anche un musicista non un chitarrista tant'è vero che oggi fa una lezione di prova ma sei anche un fisarmonicista che io ho scoperto proprio così all'ultimo minuto non sapevo questa cosa Nicoletta fa brutti scherzi si Nicoletta mi ha detto questa cosa e innanzitutto facciamo così un passo indietro qual è il tuo rapporto con l'arte e con la musica in senso più ampio? ma guarda io sinceramente quando parlo di questa parentesi un po' della mia vita ne parlo anche in maniera molto seria perché io a sette anni sono entrato in conservatorio da una casualità proprio inaspettata perché comunque la mia famiglia non aveva tradizioni di questo genere ma è successa una cosa strana una volta in albergo con un musicista perché voi avete sempre fatto insomma qualche senato? si con un musicista no in realtà era un cliente ah ok mio padre gli disse guarda io ho un parente che ha una fisarmonica io non sapevo nemmeno cosa fosse ma non avevo avuto mai un rapporto diretto con lo strumento con gli strumenti sette anni o sei anni addirittura si sei anni perché poi io su sette li ho fatti all'anno dopo perché io sono entrato un po' tardi e praticamente lui andò a prendere questo strumento quando questo signore iniziò a suonare io rimasi sbalordito ma sinceramente me lo ricordo ancora oggi nel senso che poi in realtà probabilmente sarebbe successo anche con qualche altro strumento ma particolarmente con la fisarmonica perché è la fisarmonica classica tra l'altro una fisarmonica che utilizza più metodi e quindi che è molto espressivo abbiamo la tastiera a destra abbiamo la bottoniera a sinistra c'è sto mantici che comunque è l'anima delle ance che emettono il suono e quindi c'è un impatto emotivo forte io me lo ricordo ancora oggi veramente e allora rimasi un po' così poi la cosa finì lì arrivò questo strumento a casa che doveva essere riportato a questo parente che si chiama Walter e niente rimase lì però c'era ogni tanto andavo a vedere e quindi un giorno ricordo che ogni tanto mio padre me la lanciava lì un giorno stavamo andando a San Benedetto allora a un certo punto lui mi disse ma ti piacerebbe imparare? ma io dissi sì perché no guarda ma se ti piace veramente allora ti faccio una bella sorpresa oggi andiamo a iscriverci a scuola e siccome noi abitiamo ad Alba Adriatica era più automatico per noi andare verso San Benedetto piuttosto che Teramo perché comunque c'era un problema anche di distanza reale non c'era la superstrada viabilità certo e quindi per arrivare a Teramo si impiegava veramente tanti minuti e se non un'ora e io sono entrato all'istituto Vivaldi nel gennaio del 78 quindi qualche anno fa precisamente e iniziai un po' tardi il corso c'è da dire che poi tardi rispetto all'anno non rispetto alle dalle sì 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 e lì è iniziata la mia grande avventura perché in realtà dieci anni di corso la licenza di teoria l'ho presa a Teramo invece al Braga con il grande Piovano ma poi ovviamente ci conoscevamo in tanti anche perché poi dieci anni di corso significa dieci anni di esperienza dieci anni di concerti dieci anni di saggi dieci anni di concorsi dieci anni di orchestra di prove dieci anni di vita fatti proprio veramente sì per la musica che è il primo linguaggio universale per assoluto e penso che poi abbia rappresentato veramente tanto anche per per la vita di tutti i giorni e per come si affrontano anche le cose di tutti i giorni quindi ti ha affermato la musica oltre che appassionati sì sì ma tra l'altro ripeto io poi mi sono dedicato anche al turismo quindi ho fatto una scuola specifica poi però sono tornato un attimo alla musica ho fatto lettere in filosofia con una laurea sperimentale in etnomusicologia perché la fisarmonica classica non era mai stata considerata per quanto riguarda la bibliografia dell'etnomusicologia italiana diciamo nel panorama diciamo di questa di questo ambito così importante e Roberto Leivi che è il più grande elettromusicologo italiano era il mio insegnante e quindi accettò di buon grado di fare questo di assistermi in questa tesi e quindi sono tornato con la laurea ad occuparmi di fisarmonica classica tra l'altro mio padre c'è da dire poi in parte è stato leggermente ingannato perché lui mi portò poi alla fine a studiare la fisarmonica perché lui amava il liscio in maniera certo anche perché e io non gli ho mai dato questa soddisfazione anche perché strumenti come la fisarmonica sono soprattutto nella declinazione i dagli ha qualche volta portati a questa musica ma noi abbiamo avuto un problema in realtà reale perché la fisarmonica classica non era ancora annoverata tra diciamo gli strumenti nobili istituzionali certo seppur Giuseppe Verdi nella revisione dei conservatori la inserì a fine ottocento beh oddio proprio fine no per l'888 se non sbaglio noi facemmo poi questa questa tesi che in realtà portò la fisarmonica nel diciamo nell'alveo del mondo universitario della dell'altromusicologia molti cantautori iniziarono a anche ad inserirla realmente nel nei gruppi certo al di là della musica classica che prevede una serie di trascrizioni importanti con la fisarmonica abbiamo anche fatto diverse cose con dei quintetti dei quartetti abbiamo fatto anche un bel concerto una bella tournée piccolina che ha toccato diversi paesi stranieri costituimmo un quintetto con dei colleghi che si chiamava quintetto Ancia con il quale abbiamo fatto anche tanto poi la vita ti porta a fare delle scelte in realtà il turismo è molto 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 vicino alla sensibilità della musica perché comunque è un ambito in cui la musica ha un elemento è un elemento importante come cultura del territorio come declinazione di tutti coloro che comunque si spostano anche per dei gusti musicali piuttosto che per lavoro piuttosto che per i festival e quant'altro sono contento perché comunque non mi dispiace quello che faccio e comunque l'ho portato anche nella mia piccola realtà aziendale però la musica è veramente una un linguaggio molto importante che forma i ragazzi i bambini ricordo all'epoca che nelle materie di semiologia se non sbaglio facevamo dei riferimenti a dei corsi americani un certo Jeff Weasley se non sbaglio che lanciava nel 90 no nel 90 le prime classi di musicoterapia per i bambini fragili bellissima è diventata una grandissima per fortuna una grandissima consuetudine anche terapeutica certo ma non solo per non solo per per i bambini fragili ma anche per tutti noi certo assolutamente perché la musica da qualche parte c'era scritta a terra musica e terapia da qualche parte ma infatti ricordo che quando mi diplomai io mi sono diplomato nello strumento a 18 anni sì a 18 19 anni e mi ricordo che iniziai ad insegnare in queste in diverse scuole private proprio perché mi piacera la cosa e quindi ci impegnavamo anche a creare le condizioni così come magari vedo qui stasera infatti mi fa passare tornare indietro un po' nel tempo bellissimo e starei anche ora ad ascoltarti perché sei il primo ospite che ha una così profonda conoscenza della musica anche da un punto di vista didattico tecnico è una cosa interessantissima magari coglieremo anche l'occasione in altri contesti per entrare poi nel merito di ogni questione vedo che però il maestro Gianluca D'Angelo più o meno sta finendo con la lezione di chitarra quindi torniamo a indossare la mascherina e ti porto in aula innanzitutto ascoltiamo il finale di questa lezione con i ragazzi che stanno suonando e in più tornerai sullo strumento questa volta la chitarra anziché da insegnante da allievo vediamo che cosa succede ma chi sa grazie 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 una settimana prossima mi raccomando studiate le scale ok va bene perfetto allora voglio studiare le scale dalle scale li facciamo uscire bravi già manco ti puoi accomodare la E il tuo posto e invece allora vuoi prendere la chitarra quella lì sì ho capito il maestro Gianluca l'angelo hai avuto altre occasioni per conoscerlo sì 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 siamo conosciuti allora devo rimettere il sì così siamo bene perfetto certo che tra la bisermone e la pianoforte e la chitarra elettrica e la chitarra elettrica alzi un pochettino il volume dove si è scritto volume quello sopra quello sopra quello più in alto perfetto sentiamo come si sente anche un altro po' ok già ci siamo allora credo che già sai fare qualche accordo no guarda quello che so fare lo so fare veramente in maniera autodidatta perché ho avuto non mi è mai capitato di approfondire la chitarra ho approfondito altri strumenti tipo tipo il corno inglese nel nel 88 ho fatto un anno di avvicentamento per capire poi invece mi innamorai del fagotto ho fatto per un anno e mezzo fagotto poi il problema è che non riuscivo a mettere insieme tutto perché comunque questo insegnante veniva ad Ascoli quindi andavo a Spontini ad Ascoli io invece studiavo a L'Ubibaldia a San Benedetto è un disastro in sintesi oggi però facciamo una cosa completamente proprio diversa vorrei trovare a fare un po' di rock ti dicevo che in estrema sintesi noi ha studiato la fisarmonica quindi poi di musica ne sa tantissimo abbiamo parlato diciamo qualche istante fa quindi quello che dici tu insomma è in rock andiamo in un'altra direzione completamente allora facciamo il pezzo più famoso della chitarra rock ok allora devi semplicemente suonare due corde centrali quindi queste due centrali sono quelle centrali ok quelle lì ok allora prima a vuoto quindi due corde a vuoto poi al terzo tasto dove stanno i pallini ok quindi zero tre cinque poi zero tre sei cinque capito ma eh lo so adesso è la prima volta quindi sei cinque ok poi zero tre cinque tre zero wow allora 1, 2, 3, 4 ok ripetiamo da capo che ce l'hai tua ce l'hai eh bravo ce l'hai ce l'hai ce l'hai è fatta quella è la disgraziata con la fisarmonica siamo un po' lontani però in realtà poi c'era l'organo Hammond dei riparpol in realtà in realtà ci sono dei pezzi scritti per fisarmonica e chitarra che sono la fine del mondo quindi se ti capita che non conosco quindi poi mi farai ascoltare fisarmonica e chitarra sono fantastici chitarra chitarra classica particolarmente e qualcosa anche con l'elettrica ma meraviglioso è bellissimo perché qualche lezione di prova diventa poi al contrario imparo cose nuove e nella musica insomma capita spesso una contaminazione il dare e poi richiedere un po' il video qualcosina maestro Gianluca siamo andati quindi potrei iscrivermi a questo sicuramente si anzi ti aspetta rischio che poi se torno a scuola non esco più quindi dobbiamo accogliare le cose noi facciamo lezioni di 20 minuti sicuramente sicuramente comunque complimenti sei in gramba ho visto i ragazzi prima con un entusiasmo eccezionale questo mi è importante guarda veramente importante complimenti a tutti grazie 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 e ci vediamo a presto sicuramente non posso raccontarti tutto ma Gianmarco ho anche un passato da insegnante di fisarmonia insomma e alcuni aspetti dovremmo fare la puntata a due quindi poi ne riparleremo va bene Gianmarco io ti accompagno no si fa così grazie ci vediamo grazie a presto ciao ok siamo bravo di te siamo Gianmarco intanto congratulazioni per la tua lezione di chitarra perché abbiamo fatto un riff fantastico e soprattutto per le due chiacchiere ne sai tantissimo di musica una cosa fantastica e devi per forza di cose prendere un appuntamento con Giorgio per l'iscrizione per tornare almeno per finire la nostra chiacchierata ma poi mi torni molto anche dagli interlocutori l'insegnante di chitarra eh Gianmarco Giorgio è un grande tanti ragazzi lo amano insomma noi ti ringraziamo per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi grazie a questo parentesi meravigliosa questa volta che torni per suonare porta anche una fita armonica ma c'è una ginefession vabbè ci sto grazie a voi grazie a voi grazie a voi